ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video io sono damma colleziona e benvenuti sul mio canale ritrovati ragazzi oggi faremo lo spacchettamento l'unboxing di questo magnifico cofanetto incentrato sul full metal alchemist brotherhood edizione monstre grandissima edita dalla label specializzata in prodotti di animazione giapponese che è la dynit box contenente tutta la serie animata di full metal alchemist brotherhood la serie televisiva full metal alchemist brotherhood è stata realizzata dal 2009 al 2010 ed è composta da 64 episodi e come ogni prodotto seriale di animazione giapponese è basato su una serie manga in questo caso da un manga shonen della manga arakawa questa serie si chiama full metal alchemist brotherhood per differenziarsi dalla prima trasposizione anime del manga che si chiama full metal alchemist full metal alchemist brotherhood è praticamente la trasposizione fedele della serie manga si tratta di un cofanetto di un box presentato in anteprima a lucca comics and games 2023 è uscito a novembre io l'ho recuperato recentemente su amazon ad una cifra nettamente più bassa perché il prezzo di listino mi sembra che sia 130-150 euro e adesso su amazon lo potete trovare su 70-75 euro io mi sembra che l'ho pagato 72 i cofanetti targati dynit sono sempre spettacolari ricchi numerati ben fatti con materie di qualità e anche questo qui full metal alchemist brotherhood è tanta tanta roba faccio una piccola premessa il cofanetto non vi arriva sigillato non l'ho spacchettato io ma il cofanetto vi arriva così da amazon e ho anche altri amici che l'hanno preso in fumetterie che l'hanno preso su altri siti internet non è sigillato viene venduto così vi arriva così quindi non spaventatevi perché non è sigillato arriva solamente così c'è questa sorta di slip plasticosa che si sfila via ma non è sigillato non è incartato non è impacchettato l'edizione si chiama gate of true ovvero il portale della verità elemento molto importante per la storia e quindi questo elemento plasticoso questa slip cover ci permette di creare questa quest'altro combo aspettate che lo sfilo via che non è facile troviamo questo elemento magico e poi qui dietro troviamo il flyerino dell'edizione con tutte le informazioni è un'edizione combo non ve l'ho specificato prima perché all'interno oltre ai blu ray troviamo anche i dvd si apre a scrigno con chiusura apertura magnetica così e qua troviamo un altro elemento simbolo del film relativo agli homunculus che è l'occhio all'interno ci sono tantissime cose troviamo il poster con la mappa del mondo di artemis oltre al poster troviamo un bellissimo librone brossurato un secondo librone brossurato il certificato di autenticità con la numerazione stampato su un cartoncino di una bella grammatura la mia è la copia 3793 di 5000 la tiratura è bella alta qui ragazzi 5000 copie sono tante quindi difficilmente credo che il cofanetto andrà fuori catalogo nel giro di breve tempo difatti il prezzo come vi ho detto si è praticamente dimezzato da novembre data di uscita da novembre 2023 data di uscita ufficiale del cofanetto adesso siamo ai primi di febbraio si è praticamente dimezzato e ci sono ancora tantissime copie in giro quindi vedete voi scegliete voi il momento adatto per comprarlo ma difficilmente andrà fuori catalogo poi troviamo anche delle cartoline dietro il logo full metal alchemist brotherhood e qua troviamo alcuni dei protagonisti principali e questi sono i due fratelli eric e l'altro che è racchiuso in uno spirito il cui spirito è racchiuso in un'armatura e poi qui dentro troviamo dentro questa cosa sagomata questo gaggettino e il cofanetto sono praticamente due digistack uno contenente i blu ray e uno contenente i dvd non è tanto comodo estrarli qua da questa cosa sagomata da un lato protegge ma dall'altro lato prende l'estrazione dei cofanetti dei box un pochino difficoltosa però il cofanetto di pregevole fattura ragazzi guardate che bel cartoncino solido questo è proprio cartone bella grammatura sostanzioso chiusura magnetica con questo foglietto con questa cosa la fattura è davvero pregevolo è stato di un cofanetto bello sostanzioso poi qui dentro in questa cosa qua troviamo la riproduzione della pietra filosofale e due monete questa è la riproduzione della pietra filosofale ovviamente si chiama full metal alchemist è un'opera di genne shonen d'avventura che tratta di elementi quali alchimia elementi magici e come qualsiasi favola qualsiasi opera sull'alchimia il fulcro centale è sempre la mitica e leggendaria pietra filosofale poi troviamo anche due monete commemorative due monete il tutto in questa scatolina qui e adesso andiamo a vedere due box con i dischi questo dovrebbe essere il digistack con i dvd esatto digistack vengono chiamate queste edizioni qui plasticose una sopra l'altro racchiuse in un cartoncino e quindi ancorate incollate al cartone quindi queste sono edizioni di digistack ci sono praticamente tutti i dischi c'è la serie completa 64 episodi questo invece è il cofanetto blu-ray ovviamente ha meno dischi perché i blu-ray contengono più episodi e anche in questo caso troviamo i dischi che racchiudono i 64 episodi la serie completa sono in totale 8 dischi blu-ray e adesso andiamo a vedere questi due librotti questi due megalibri questo qui più snello con meno pagine è un artbook full metal alchemist artbook adesso ve lo sfoglio molto la veloce perché è praticamente un photobook un artbook sono delle immagini sull'opera opera meravigliosa a me è piaciuto molto un bello shonen fantasy tanta tanta roba ragazzi vi consiglio di leggere prima il manga e poi di vedere l'anime un po' come farò io un po' come sto facendo io perché l'anime non l'ho ancora visto mai visto però ho letto l'opera ho letto il manga ce l'ho in collezione ho la ultimate deluxe edition targata panini da planet manga e poi troviamo questo volumone non venduto separatamente che è un logbook praticamente parla dell'opera c'è tanto testo tutto scritto in italiano ed è un libro sugli episodi vengono analizzati gli episodi ci sono le sinossi alcune caratteristiche dei personaggi principali alcuni settei alcuni storyboard quindi non male bello sostanzioso come volume guardate un bel volumone sulla lavorazione dell'opera con i disegni i frame i settei i disegni preparatori insomma c'è tanta bella roba delle schede su i personaggi principali tanta roba sono brossurati ragazzi i libri i book non sono spillati sono rilegati e hanno una rifinitura in brossura e basta vi ho mostrato tutto bellissimo cofanetto a mio avviso la tiratura è alta quindi difficilmente andrà fuori catalogo il prezzo giusto è su appunto quello che potete trovarlo adesso su Amazon 70 75 euro un bel box molto bello realizzato